Bene amici, oggi scopriamo insieme la Marino Iride Cabin 640, una barca con una lunghezza fuori tutto di 6,40 metri e una larghezza di 2,40 metri, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A Poppa troviamo due plancette strutturali, offizionalmente è possibile anche avere le prolunghe aggiunte allo scafo, separate dalla vasca del motore. Motore che vede una potenza minima installabile a partire da 40 CV fino ad arrivare a un massimo di 175. Sulla plancetta di dritta troviamo la scaletta, scaletta a ribalta con tre gradini piuttosto larga con doppia maniglia per aiutarci la risalita dall'acqua. Vedete già da Poppa parte il profilo corrimano che ci consente quindi di avere una salda presa a bordo e quindi agevolarci anche sotto il punto di vista della sicurezza. L'ingresso a bordo avviene sul lato di dritta tramite corridoio preferenziale e vede un divanetto a forma di L che occupa il resto della larghezza interna dell'imbarcazione con l'altra porzione che consente quindi di estendere la sua lunghezza. Divanetto molto comodo con spalliera fissa, imbottiture anche all'interno delle murate, in questo modo siamo davvero comodi e riparati perché anche da quest'altro lato troviamo il profilo di intibene. Il divanetto inoltre è gavonato al suo interno, verso Poppa troviamo il vano tecnico con batterie, impianti, serbatoio dell'acqua e pompa di sentina, mentre al di sotto del cuscino di sinistra c'è ulteriori spazi per lo stivaggio. In questo modo possiamo lasciare libero il piano di calpestio e quindi sfruttare al massimo la coperta. Vedete il movimento è comodo e agevole, qui c'è la predisposizione per il serbatoio del carburante, mentre all'interno della murata di dritta si trova una comoda tasca porta oggetti. Inoltre il divanetto è il modulare perché possiamo aggiungere una tavola con cuscino e quindi creare un grande prendisole, oppure possiamo opzionalmente aggiungere una base fissa con piede e quindi creare una grandissima dinetta di poppa per la sua categoria. Poco più avanti troviamo la seduta di comando spostata sul lato di dritta, seduta che vede un divanetto biposto con schienale fisso, anche qui vedete piuttosto comodo con doppia imbottitura, che può essere anche sollevato e quindi dare accesso al vano interno. Qui c'è la predisposizione per un lavello e un piano cottura, quindi opzionalmente è possibile anche avere una cucina interna, mentre al di sotto c'è un gavone stagno dove poter appunto alloggiare altro materiale. Qui c'è la predisposizione per l'estintore, mentre sulla sinistra si trova un ulteriore gavone stagno che opzionalmente può diventare un frigorifero. Con questa soluzione quindi possiamo creare una vera e propria cucina esterna e un frigorifero ed essere totalmente indipendenti dalla banchina. Quindi quando sono in plancia di comando io mi siedo al timone, timone che è davanti a me facilmente raggiungibile, non mi dà ingombro con le ginocchia, ho gli interruttori on-off disposti su due file sulla sinistra, predisposizione per la manetta di potenza sul lato di dritta e il resto della plancia è totalmente personalizzabile sulle esigenze dell'utente. In alto è prevista l'installazione della bussola e vi faccio vedere anche la visibilità che al massimo in parabrezza supera anche i miei occhi perché ho la telecamera davanti al mio viso e quindi siamo ben riparati dal vento. In questo allestimento c'è una versione full open ma opzionalmente è possibile installare anche un roll bar o gli archetti tendaline e quindi ombreggiare l'intera pozione di poppa. Inoltre tutto quello che vedete è totalmente personalizzabile quindi possiamo scegliere diverse colorazioni e anche diverse modalità di layout. Il passaggio a pru avviene su entrambi i lati, in questo caso bisogna appoggiarsi sul cuscino mentre sul lato di dritta è possibile sfruttare questo gradino creato dal cantiere per poter accedere al passavanti. Passavanti quindi bilaterale, c'è la battagliola che parte da metà scafo ma posso anche reggermi sul profilo in acciaio piuttosto spesso che circonda il parabrezza. In questo modo muovendomi raggiungo l'area di prua e qui vedo che ho un doppio cuscino che occupa l'intera larghezza del prendisole, ovviamente qui c'è il passo d'uomo ma è prevista la copertura col cuscino per avere un'unica area e anche nella porzione di prua è prevista l'inserimento di un ulteriore cuscino e in questo modo possiamo sfruttare davvero l'intero prendisole di prua. Presente anche qui la battagliola per aumentare la sicurezza per chi è meno esperto mentre al di sotto di questo portello c'è la predisposizione del vericello. In questo modo possiamo tranquillamente eseguire tutte le operazioni di ancoraggio o qualora preferissimo sfruttare la visibilità dalla plancia di comando possiamo anche installare il vericello qui sulla coperta e quindi averlo ben visibile e in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio. Completa l'allestimento la doppia galloccia da un lato e dall'altro per le operazioni di ormeggio. Ritorniamo verso poppa dal lato controlaterale per farvi vedere appunto la sfruttabilità di entrambi i passi avanti ed entriamo all'interno della cabina. Cabina che vede l'accesso con porta a scorrimento e qui c'è un'unica area molto ampia sfruttabile come letto perché c'è una dimensione piuttosto generosa per la sua categoria. Vediamo che c'è un primo gradino per agevolarci l'ingresso in cabina e qui oltre al letto matrimoniale abbiamo i cuscini che possono essere rimossi per ampliare e agevolare il movimento. Questa porzione che vedete con doppio cuscino può anche opzionalmente creare una dinetta interna quindi inseriamo una base con tavolo e creare appunto un salottino interno. Ai lati troviamo doppie tasche porta oggetti dove appunto lasciare gli oggetti al sicuro e non mancano anche i due oblò sulla dritta e sulla sinistra in aggiunta al passo duomo. In questo modo la reazione e la luminosità sono assicurate anche quando chiudiamo la porta d'ingresso. Inoltre tutti i cuscini sono gavonati al loro interno in questo modo davvero c'è tantissimo spazio per lo storage mentre al di sotto di questo cuscino c'è la predisposizione per il WC. In questo caso troviamo un gavone molto utile anche dove riporre le dotazioni ma possiamo scegliere se utilizzare un WC chimico standard oppure un WC tradizionale all'interno della cabina oppure avere anche una paratia separata e quindi avere un bagno con cabina separata per assicurare la privacy. In questo modo con l'aggiunta anche del WC possiamo avere un'imbarcazione di 6,40 metri pienamente vivibile anche per una coppia per piccole crociere. Concludo mostrandovi l'altezza interna perché io sono comodamente seduto qui all'interno della cabina e c'è ancora spazio anche con gli occhiali non urto sul cielo della cabina e quindi è pienamente sfruttabile per ottiche crociere. Nella porzione anteriore si va ad abbassare leggermente c'è un leggero dislivello per dar spazio al prendisore di prua ma non ci dà nessun problema la cabina è pienamente vivibile per queste finalità d'uso. E quindi cari amici questa è la Marino Iride cabin 6,40 come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale Grazie. 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 Grazie.